Poco è l'ultimo, 353, 354, 355, 356, 357 Pregherei le porte di venire avanti per il spazio, si serate qui su tutta la pista, venite avanti Inoltre, comunicazione di servizio, pregherei un responsabile del palazzetto, di lo sport Qua, la terra, grazie Buon responsabile del palazzetto Allora, sono molto bravi i cani, iniziamo con la storia, sta parlando di gara Musica! Allora, sono molto bravi i cani, iniziamo con la storia, sta parlando di gara Allora, sono molto bravi i cani, iniziamo con la storia, sta parlando di gara Allora, sono molto bravi i cani, iniziamo con la storia, sta parlando di gara Allora, sono molto bravi i cani, iniziamo con la storia, sta parlando di gara Allora, sono molto bravi i cani, iniziamo con la storia, sta parlando di gara Grazie a tutti.